A Casa Sollevo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, pronte le televisite. Si tratta di ambulatori virtuali per il momento di malattie infiammatorie croniche intestinali e terapia del dolore. È il primo ospedale in Puglia ad avviare i primi due ambulatori a Casa Sollevo della Sofferenza che a partire dal 18 luglio hanno iniziato a profederogare la televisita. Secondo la definizione del Ministero della Salute, è un atto in cui il medico interagisce a distanza con il paziente che si conclude con un referto firmato digitalmente che può dar luogo alla prescrizione di cure e farmaci. Dal prossimo settembre però saranno 30 gli ambulatori attivati nelle diverse specialità mediche ed è una nuova modalità di erogazione della prestazione sanitaria alternativa quella in presenza in ambulatorio e permetterà al paziente idoneo individuato dal medico specialista di interagire a distanza con i medici dell'ospedale di San Giovanni Rotondo. Il primo a partire in Puglia con le televisite in ambito non cardiologico e in convenzione con il sistema sanitario regionale. Pur essendo limitata le visite di controllo di pazienti con malattie croniche già diagnosticate, non sarà quindi utilizzabile come prima visita. La televisita darà la possibilità agli utenti che intraprendono un percorso di cura lungo e strutturato di eseguire visite e controlli programmati senza spostarsi fisicamente dalla propria casa riducendo così tempi, costi e disagi del viaggio verso l'ospedale per loro e per i loro familiari o car giver. L'erogazione delle televisite segue le stesse regole e procedure delle prestazioni specialistiche e ambulatoriali tradizionali in presenza e dunque vengono prescritte, prenotate e refertate con le stesse modalità di una qualsiasi altra visita specialistica tradizionale. Per assistere gli utenti nelle procedure di accesso alla televisita, l'ospedale Casasollievo ha attivato anche un call center tecnico gestito da partner per richieste di informazioni, supporto, assistenza e per la risoluzione di problemi legati all'uso della piattaforma tecnologica attraverso la quale si esegue la visita e si riceve anche il referto medico.